Nello strano mondo della scienza dell'assurdo passiamo da questo a questo. Alcuni studenti di ingegneria dell'Università di Lamar in Texas stanno letteralmente camminando e saltando sull'acqua. Quella piscina non è sicuramente adatta per tuffarsi a palla di cannone. Ma cosa rende possibile questo miracolo dell'era moderna? La vasca che vediamo nel video è stata riempita d'acqua e amido di mais, che insieme creano una sostanza molto speciale, detta fluido non newtoniano. Se ti muovi lentamente all'interno si comporta come un liquido. Posso immergerci il dito molto lentamente e poi posso tornare a tirarlo fuori. Nessun problema, ma se tanto di farlo velocemente diventa solido. Se lo colpisco, va addirittura male. È completamente solido se lo colpisco, ma se ci entro lentamente torna a essere liquido. Ma come è possibile che una semplice mistura di amido di mais e acqua produca questo fluido incredibile? Se guardassimo la miscela al microscopio, scopriremo che è costituita da migliaia di minuscole particelle di amido di mais distribuite uniformemente all'interno della miscela. Se applichiamo una pressione lieve, le particelle di amido si spostano una sull'altra e ci lasciano passare. Ma se applichiamo una pressione improvvisa, le particelle non hanno il tempo di spostarsi e il liquido si comporta come un solido. Ed è per questo che finché i ragazzi si muovono velocemente e saltano sulla superficie, questa rimane rigida. Ma se smettono di muoversi dando alle molecole la possibilità di spostarsi, ci sprofondano dentro. Ma il bello è che la miscela si comporta come un solido solo per un breve lasso di tempo. Quindi, se ci si vuole stare sopra, bisogna continuare a muoversi. Forte, vero?